Dal Vangelo secondo Luca Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ci li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari, fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Gesù insegnava nelle loro sinagoge e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Il Signore vi dia pace, carissimi fratelli e sorelle. La liturgia della parola della terza domenica del tempo ordinario è molto ricca di spunti di riflessione per la nostra vita di fede. Sono certo che già tante altre volte abbiamo riflettuto sul brano proposto nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel quale l'Apostolo Paolo, attraverso il paragone del corpo articolato in molte membra, raccomanda ai Corinzi l'uso dei carismi, di modo che la comunità diventi davvero corpo vivo di Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo, dice Paolo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Ebbene, allora ricordarci che ognuno è importante e prezioso nella comunità perché è unico dinanzi agli occhi di Dio. Ognuno è parte del corpo mistico, quell'unico corpo che è la Chiesa, il cui capo è appunto Cristo. Sì, il capo è Cristo. Lo stesso Cristo nato dalla Vergine Maria, battezzato nel fiume Giordano e che nella pericope di questa domenica ci viene presentato nel momento in cui manifesta la sua missione di salvezza suscitata dallo Spirito Santo. È lo stesso Spirito che interviene distintamente nella nascita e nel battesimo, che lo unge, potremmo dire, all'inizio della sua attività profetica. E' per questo motivo che nella sinagoga di Nazareth Gesù applica a se stesso il testo del profeta Isaia. Poi il Vangelo conclude che dopo aver riavvolto il rotolo delle scritture, Gesù dice ai presenti, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gesù rivela così la sua missione che è quella di salvare gli uomini. Ebbene, anche noi cristiani siamo per certi versi stati uniti nello stesso Spirito Santo, nel battesimo e nella cresima, proprio perché potessimo agire. come Cristo per vincere il male del mondo e il peccato nella nostra vita ed essere così messaggeri della lieta novella, della liberazione umana ad opera di Dio. Un esempio lo abbiamo proprio in San Pio da Pietrelcina, la cui unica preoccupazione potremmo dire nella sua vita e nel suo ministero era proprio quella di guadagnare quante più anime a Dio strappandole dall'accio del demonio, dall'accio di Satana. Lui allora è un esempio di come Gesù vuole che siano gli edificatori del suo regno. Accogliamo allora questa parola e manifestiamo con le nostre opere e le nostre azioni la fede in Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e bene e buona domenica a tutti.